ciao allora oggi vi voglio parlare di un prodotto che mi ha davvero soddisfatto e si tratta di questo primer per l'ombretto di bottega verde allora dice di essere un primer fissante per ombretto tenuta impeccabile con estratti di papaya e mirtillo nero la confezione è un 10 ml e eccolo qui dentro è fatto così con l'applicatore piccino e gli ho fatto uno swatch però dato che sta uscendo un pochino di prodotto ve lo mostro anche così ok effettivamente mi ricordavo che ve lo dico dopo allora intanto il prezzo 10 ml prezzo di destino 13 99 promozione 5 euro e 99 quindi vi consiglio di tenere d'occhio le promozioni periodiche o le cartoline che arrivano a casa o le promo in negozio oppure online perché davvero si può trovare a prezzi scontati allora intanto avete visto lo piccolo swatch ma per sicurezza aspettate che l'ho messo via ma prima ve lo voglio far vedere che è questo qui è piccolino perché un 10 ml ma è performante davvero performante allora prima di tutto il colore che è un colore neutro adesso vi faccio vedere il video e la clip però comunque un colore che si stende sulla palpebra ed è la rende più omogenea più uniforme ma allo stesso tempo non ha un colore quindi non va a alterare il colore vedete la clip così vedete dunque allora si stende facilmente la clip si stende la clip così come si assorbe immediatamente, adesso vediamo se ne esce per caso un altro pochino, per farvelo in diretta, ma so di averlo proprio finito, lo sto proprio strizzando, esce pochissimo, e niente, ed allora, unica cosa, se sentite così, profuma, ma tranquillo che il profumo non persiste sugli occhi, e anzi, proprio nella confezione, se andate ad usare il prodotto, quando lo applicate, non ha profumazione, quindi non va a dare fastidio agli occhi, ed è applicato ovviamente sugli occhi, perché un primer è per ombretto, va a uniformare la palpebra, la rende omogenea, ed permette quindi un trucco più facile, fissa bene le polveri, ma si sfumano facilmente, non è che tende a grapparle o incollare l'ombretto in polvere, si sfuma facilmente, ed però lo rende più duraturo, ho notato la differenza con e senza, perché l'ombretto dura più a lungo, io lo vado ad applicare anche, per il mio trucco che vi ho consigliato, per fissare l'ombretto sulle palpebra che tendono a lacrimare, quindi lo applicate, una volta finito il make up, lo picchiettate sopra, e poi andate a passare un altro strato solamente di ombretto, dura tantissimo, non va a alterare il colore, dura, vi metto il link nella scheda del video, così capite meglio di cosa parlo, ma davvero funziona, allora, non ha la tenuta impeccabile, di primer più costosi, però per tutti i giorni, ah, mi hanno detto 5,99€ in promozione, sì, è valido, è valido davvero, mi è piaciuto davvero tanto, perché asciuga immediatamente, è facile da applicare, ed rende l'ombretto più duraturo, nel tenere la giornata, ah, durante la giornata non crepa, non va nelle rughette, non mette in evidenza le linee dell'occhio, perfetto, rimane lì, bello stabile, vediamo se devo dirvi qualcos'altro, direi che vi ho detto tutto necessario, per vedere se scegliere questo prodotto, e che io vi consiglio, e quando ritrovi in promozione, 13,99€ a prezzo pieno, potrei farlo, eh, potrei farlo, ma allora preferisco provare nuovi prodotti, però mi è piaciuto tanto, quindi con l'altra in promozione, sicuramente questo lo riprendo, perché per tutti i giorni, e io, truccando sempre gli occhi, un primer occhi mi serve, e mi piace, mi piace davvero tanto, guardavo l'Inci, che non troverò mai, si, contiene silicone, contiene silicone, perché ha il dimenticone, quindi ce ne ha, non è sicuramente un primer bio, ma comunque sapete che ne contiene, come tantissimi primer, non è solamente questo, e niente, io lo rimetto via per ricordarmi, ed è ve lo straconsiglio, ve l'ho detto, perché sicuramente a me è piaciuto tanto, fatemi sapere se avete provato questo prodotto, e come siete trovate, io come sempre spero di essere stata utile, e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale, e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video, alla prossima, ciao! No, ma io ho questo ciuffo, non riesco a capirlo, cioè, ce l'ho qui, ho sempre questo cavolo di ciuffo davanti agli occhi, sempre, e c'hai la lacca, ma cosa ci devo fare oltretutto? Ah, io ci metto le mollette, giuro che ci metto le mollette!